È vero che Marcello Sorgi adesso ricordava tra quello che ha fatto il governo quota 100 reddito di cittadinanza e dimentica una cosa importantissima che è l'unica riforma strutturale che ci ha chiesto l'Europa per anni e che ha promosso il greco dell'Europa che è la legge anticorruzione, una legge che non siamo riusciti a fare per vent'anni e che questo governo ha fatto, però questo fiore all'occhiello durante per esempio l'ultima campagna elettorale tutta incentrata sul reddito di cittadinanza, credo che gli elettori l'abbiano totalmente perso, per il resto concordo, sarà tutto congelato, 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 io per quello non lo è in vigore, da oggi possono intercettare i cellulari, possono fare tutto da oggi.